Come disporre un bonifico in pochi istanti con l'app BAPR at mobile è semplice veloce e sicuro ricerca la funzione nell'app dal pannello delle funzionalità seleziona l'icona bonifico In alternativa, premendo a lungo il tasto centrale in un page, puoi consultare l'assistente virtuale per avviare il bonifico con la tua voce Effettua il bonifico manualmente Inserisci il nome e i dati bancari del beneficiario Se lo hai già memorizzato in rubrica, le informazioni saranno compilate in automatico Inserisci l'importo e la causale del bonifico Verifica le informazioni Controlla la correttezza dei dati inseriti Poi conferma l'operazione per effettuare il bonifico Lista movimenti In ogni momento, puoi controllare il bonifico e gli altri movimenti del conto dall'apposita sezione Con BAPR At Mobile, entri in banca, ovunque ti trovi Per un'impostosa con BAPR At Mobile, entri in banca, ovunque ti trovi